Hanno aspettato diligentemente il loro turno per fare passerella davanti ai tanti fotografi al festival del film di Roma. Poi hanno pure salutato chi li ha preceduti, l'attrice e neoconduttrice Chiara Francini e splendidi splendenti hanno camminato su red carpet per farsi immortalare. Nessuna crisi tra Paola Barale e Rats the Gun. Il loro rapporto ormai ultradecennale continua. Lo hanno sempre detto, soprattutto Paola, hanno bisogno del loro spazio.